Lo chiede ai suoi dicevoli di sé, prendete e mangiatene tutto. Questo è il minotore offerto in sacrificio per voi. Dopo che, in allo stesso modo, presentate le senarze, lo chiede ai suoi dicevoli di sé, prendete e prendete tutto. Questo è il parmi sé del mio dame per la nuova e l'eternità di amica, versato per voi e per tutti e per il signore dei metani. Fate questo in memoria di me. Misterio della fete. Sì, è il mio dame e mi amore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.